Benvenuti in questo nuovo video Oggi video showcase sul Broly Ma non un video showcase qualunque Ma un video showcase Veramente assurdo Attento qua ragazzi vi faccio vedere Le sue caratteristiche Sono veramente pochissime Pochissime Cioè ci sarebbero pure queste qui Ma si sbloccano A Zenkai 7 E noi ce l'abbiamo solo a Zenkai 1 Raga questo è il team dove andiamo a giocare Il carissimo Bardock E la carissima Vados Per vedere gli effetti Assurdi Mischiati tra il crypt E il danno infinito Ok raga Vamonos Bello il lag Fantastico Sì 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 bello bello bellissimo fantastico raga direi vediamo al prossimo match eccoci qua col secondo match dove faremo un danno più crypt no grazie molto gentile bisogna fare qualcosa? grazie mi ha fatto fare qualcosa almeno che dobbiamo fare? dove va questo caro caro vegeta mi piace un bordello mi piace un bordello questo team però lì va bene raga direi che ci vediamo in un prossimo video si showcase cortini però di qualità allora raga devo decidere su dream team come devo fare questi showcase visto che lì è un po' più complicato fare i showcase mi sa che farò i showcase con il carissimo con i carissimi eventi raga praticamente sì lì dove completeremo gli eventi che non abbiamo completato insieme a voi che ne dite? se vi piace l'idea se non mi piace purtroppo li devo portare e li devo anche alcuni completare visto che non l'ho completato vabbè detto questo io vi lascio